Semplicemente complimenti per una gran partita del Pescara. Ha stato un molto buon match per la squadra. Sì, abbiamo avuto un inizio lentamente oggi. Abbiamo conceduto il primo gol e non è il nostro gioco come vogliamo presentare. Ma dopo la carta roda abbiamo iniziato a giocare il nostro gioco. Abbiamo controllato il gioco, abbiamo scoperto i gol. Dobbiamo scoprire più, ovviamente. Ma siamo felici per questo risultato e siamo preparati per il Torre. Allora, Messi ha detto che chiaramente sono molto contenti di questo risultato. Ora prepareranno la partita con la Torres. All'inizio è stata una partita un po' difficile. Poi dopo il cartellino rosso, quindi con la superioreità numerica, il Pescara ha segnato, soprattutto ha controllato bene la partita. Per te questa è un'ottima stagione fino a questo momento. Ha stato un'ottima stagione per te. Sì, ho cercato di fare il mio migliore, solo per cercare di aiutare la squadra quando spiego, quando inizio in 2011. Ma abbiamo... Sei felice? Sì, sì. Sono felice e abbiamo il nostro gioco, di andare in ogni gioco, per ogni gioco. Quindi il prossimo gioco è il Torre, e abbiamo di essere pronti per questo. ecco, Masic dice che lui prova settimana dopo settimana, partita dopo partita, a fare sempre meglio, poter essere nell'undici titolare, poter giocare, soprattutto porsi sempre nuovi obiettivi per il futuro. Il prossimo obiettivo è la Torres. Ma quale deve essere l'obiettivo per questa stagione? Vediamo se dice la parolina magica. Quale sarà il gioco per questa stagione? Sì, andiamo gioco per gioco, quindi il prossimo gioco è il Torre. Noi sappiamo che ci stanno guidando questo campionato, quindi dobbiamo essere pronti per ogni dettaglio, perché ogni dettaglio può cambiare il gioco. Quindi dobbiamo andare al Torre nel mercoledì, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di vincere il nostro gioco a casa, e poi andremo gioco per gioco, all'ultimo gioco. Ok, noi ci abbiamo provato, grazie Ivan Mesic. Chiaramente l'obiettivo deve essere quello di fare bene partita dopo partita, ok il campionato, ma adesso mercoledì c'è la Torres, una partita importante, bisogna provare a vincere questo match. Le parole di Ivan Mesic, un giocatore massimo secondo me indispensabile per questo Pescara, ha detto bene Zeman, ora lui e Brosco sono però in diffida entrambi.